E' stata scelta Senigallia dall'Associazione Nazionale Pensionati della Ciamarche per questa assemblea elettiva, un rinnovo di carica, il presidente uscente Fiori Franco lascia dopo due mandati e quindi una nuova sfida per il prossimo mandato nella consapevolezza che è tanto l'impegno che bisogna mettere, soprattutto per alcuni capisaldi che ancora non sono stati raggiunti come il minimo delle pensioni, una quota veramente sulla soglia della povertà che vogliono spingere su una cifra decisamente più onorevole degli 800 euro. Sentiamo dalle parole anche del sindaco che è onorato di ospitare questa assemblea elettiva per tanti motivi, come sentiremo dalle sue parole, Senigallia città che vive di mare ma anche di enogastronomia e quanto mai importante l'apporto degli agricoltori per mettere sulla tavola di turisti e vacanzieri prodotti di grande qualità. Per Senigallia l'attività agricola è estremamente importante, viene riconosciuta come mare ma in realtà è un grande territorio da detto all'agricoltura e la CIA rappresenta una delle forze più rappresentative nel nostro territorio. Ho apprezzato molto questo tipo di incontro anche perché fondamentalmente pone delle problematiche che sono estremamente serie e non riguardano solo la categoria ma tutti quanti e quindi problemi sociali che certamente coinvolgono anche la città. Mare, territorio, agricoltura e quindi prodotti agricoli che vanno sulle tavole dei turisti, è un filo molto stretto perché naturalmente è un virtuale che fa pene a tutti quanti, insomma avere un'agricoltura forte e produttiva. Senigallia si connota oltre che per il mare anche per il turismo enogastronomico per cui quello che è importante è la qualità e quindi la qualità anche dei prodotti agricoli nel nostro territorio è una grande valenza per la nostra città ed è una forte forma di veicolazione dello stesso turismo senigallese. Fiori Franco lascia quindi due mandati, due mandati importanti, sentiamo il suo stato d'animo e sentiamo anche come ha vissuto questi anni contrassegnati anche da passaggi della nostra comunità importante, pensiamo uno fra tutti naturalmente il Covid e quello che ha rappresentato per i pensionati in questo momento ma anche alla luce dei giorni nostri il caro Energia. Sono stati otto anni difficili anche perché abbiamo avuto la pandemia, adesso abbiamo la guerra, abbiamo una situazione pensionistica molto molto difficile soprattutto all'interno della nostra categoria e quindi mi riferisco agli agricoltori, ex agricoltori, noi siamo la componente principale della Confederazione per cui è delegato a noi dare una risposta a quelli che sono i problemi sociali e previdenziali dei nostri agricoltori. Purtroppo nonostante tutti impegni e raccolta delle firme, 100.000 firme che abbiamo raccolta, non siamo riusciti ancora a far porre sul tavolo del Governo questa questione delle pensioni al minimo, questo è forse uno degli elementi che è rimasto in sospeso. L'altro fronte abbiamo ottenuto in parte la famosa una tantum, questa quattordicesima che comunque ormai è un dato di fatto acquisito ma non abbiamo ottenuto molto perché la situazione prima politica era difficile, oggi è ancora peggio con la pandemia e con la guerra quindi è uno dei temi che rimane all'ordine del giorno. Mentre abbiamo avuto una serie di rapporti con il Governo regionale perché la sanità è un problema di competenza regionale sia per quanto riguardava il primo piano socio-sanitario che è stato approvato dalla vecchia maggioranza all'altra maggioranza di centro-sinistra e abbiamo iniziato un rapporto costruttivo con la nuova Regione. Ormai dobbiamo raccogliere i frutti, siccome i finanziamenti ci sono ci auguriamo che veramente le nostre proposte, che soprattutto si basa su una sanità territoriale, quindi servizi sul territorio. Questo è quello che noi chiediamo perché gli agricoltori sono sul territorio. Lei ha partecipato a tanti tavoli nazionali, una domanda gliela voglio fare. Tutti si riempiono la bocca, si stracciano le vesti dei nostri nonni, dei nostri pensionati che supportano le famiglie giovani, magari anche con la propria pensione, patrimonio della nostra cultura. Perché poi alla resa dei fatti invece sembra che la voce dei pensionati cada nel nulla? Perché c'è questo divario tra quello che si dice e poi quello che in realtà si mette in pratica? Che cosa non funziona? Intanto secondo me c'è un problema di rappresentanza. I pensionati sono troppi divisi. Noi abbiamo due categorie di pensionati, i pensionati del lavoro dipendente e i pensionati del lavoro autonomo, che non camminano in sintonia purtroppo. Questo è uno dei problemi che abbiamo. E andare divisi dal governo è una debolezza. Quindi tutti ci dobbiamo domandare dove abbiamo in qualche modo sbagliato, cioè non abbiamo intrapreso la strada giusta. Questo è uno degli elementi importanti. Poi c'è un problema che si parte da un presupposto che comunque il pensionato ha un minimo vitale. Di fronte a tutta una serie di disoccupati o meno, evidentemente pare che sia un problema del secondo ordine. Invece non ci dimentichiamo che tra i 4 milioni di poveri, tra seduti e relativi, gran parte sono pensionati. Certo, le accise sono uguali per tutti, i costi in bolletta sono uguali per tutti e questo è il discorso che alle volte non si pensa. Non ce ne vuole capire, sono d'accordo con lei. Purtroppo questo non ce ne vuole capire che poi quando ci sono degli aumenti fissi, come quello del gas e quello dell'elettricità, colpisce sia chi ha pensione, diciamo, fuori del normale, diciamo, perché non è possibile un paese come il nostro, pensionato, e anche fosse uno di 10 mila euro, non è giusto. No, è giusto che ci sia una ridistribuzione tenendo conto che tutti abbiamo fatto il nostro dovere. Non è che qualcuno ha fatto il suo dovere. Io ho pagato quanto ho dovuto, quindi non è giusto, evidentemente, che mi ritrovo nella povertà assoluta. Ovviamente non potevano mancare i vertici CIA qui a questa assemblea elettiva, Gianfranco Santi e Gattari Mirella che hanno visto nella guida di Fiori Franco un faro data l'età ma anche il periodo che ha passato all'interno dell'associazione il presidente uscente. Questo è un turnover che esiste per le nostre regole interne, mi sembra giusto e opportuno, dare nuova linfa anche ai vari momenti associativi con persone nuove che hanno voglia di impegnarsi, che hanno voglia di dare il proprio contributo perché noi siamo un'organizzazione sostanzialmente unitaria che è una linea e tutti quanti seguiamo quel tipo di linea. Quella linea oramai è una cosa che riguarda la storia, parte dalla storia. Siamo chiaramente in questo caso con i pensionati per dare delle risposte possibili alle esigenze che hanno in modo particolare a quelli che sono nelle aree rurali che sono i più svantaggiati perché non solo i cittadini o le imprese che sono in quell'area sono svantaggiate ma anche i cittadini pensionati in modo particolare se pensiamo ai pensionati dei lavoratori autonomi che sono sotto la soglia di povertà come certificato dall'Europa. Franco è stato davvero meraviglioso, Franco Fiori in questi otto anni si è dato davvero da fare, ha ascoltato non so quante migliaia di persone, di pensionati, ha portato su ogni tavolo le necessità di chi ha ascoltato ed è stato con la sua carica a livello nazionale come vicepresidente nazionale il motore portante di tutte le politiche della NP. Diciamo che siamo davvero orgogliosi, davvero davvero orgogliosi di avere un'espressione così alta della nostra politica dei pensionati. Qualcuno che riesce a interpretare in precisione, in come dire, in dettaglio le necessità del territorio e lo fa con un grande amore. Ha tenuto a ribadire un concetto, da soli non si va da nessuna parte, questo vale un po' per tutto, bisogna essere uniti per raggiungere importanti risultati. La squadra prima di tutto. In questo periodo vediamo l'uomo solo al comando cosa combina. Franco è stato sempre il primo propositore di squadra, il primo che è riuscito a coinvolgere tutti e da questo insegnamento noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo trarre proprio questo insegnamento e trasformarlo in atti, ma non solo per i pensionati, in CIA, nelle nostre associazioni, nella vita quotidiana. Unire le nostre forze significa essere invincibili. Bene, elezione fatta, quindi sentiamo dal nuovo Presidente come affronterà questo periodo e quali sono i lasciti e come verranno gestiti proprio del Presidente uscente. Io prendo il testimone dopo Franco Fiori che è sempre stato, tra virgolette, il mio Presidente, il Presidente quando era alla CIA e adesso all'Associazione dei pensionati per i quali poi vediamo i risultati e l'impostazione politica che continueremo secondo il suo insegnamento. Un'eredità importante, qual è così il suo pensiero in questi minuti e insomma come si vede nel prossimo futuro? Io mi vedo che in questa confederazione sono 30 anni che ci sto, quindi non è, anzi questa confederazione mi ha dato la pensione, quindi è giusto come si dice adesso che ritorni qualcosa alla mia organizzazione. Il futuro è che non può essere, vista la situazione, che è un futuro di lotta. Le proposte ce le abbiamo molto precise, la relazione stessa di Fiori con il suo spessore ha dato la qualità delle nostre proposte e adesso bisogna lottare per realizzarle. È stata una chiamata alle armi possiamo dire, ma sicuramente all'unità, questo sarà un obiettivo importante da perseguire. Ah ma l'unità nella confederazione delle Marche c'è sempre stata, nell'Associazione dei pensionati lo stesso, lo spirito del gruppo dirigente è sempre stato unitario, ovvero quello che posso fare io perché l'altro possa lavorare insieme con me e quindi comprendere le ragioni dell'altro, che condizione essenziale.